Il suo direttore sportivo che ha fatto questa squadra, che ha dato una emozione enorme, soprattutto al presidente che questa sera non stava più nella pelle e anche ad Albese. Nel primo anno un risultato strepitoso, Gabriele. Beh, complimenti anche a tutti. Un risultato storico, un risultato storico, la permanenza in Serie A matematica. E sì, felicissimo perché sono veramente felice, una gioia immensa raggiungere questo obiettivo delle neopromosse e quelle che hanno comprato i diritti. Siamo l'unica squadra che fino adesso si è salvata. Tutte le altre dovranno lottare per il play-out, però sono contentissimo del risultato raggiunto per le ragazze, per la società e soprattutto per il presidente. Il presidente che se lo merita perché è attaccato a questa squadra come una cozza sullo scoglio. E con tre giornate d'anticipo. E con tre giornate d'anticipo. Non è per niente né facile né scontato. Io ho già detto alle ragazze che adesso un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Adesso ce ne poniamo un altro. Vediamo di raggiungere il quarto posto. Il nostro obiettivo maggiore sarebbe quello. Però siamo felici così, strafelici così. Grazie Gabriele. Prego, ciao.